Nuovo Palasport di Cantù. Questa è la settimana dell'inizio dei lavori per l'Arena di Corso Europa. L'obiettivo è di arrivare all'inaugurazione della struttura nel 2026. Le prime opere saranno quelle di demolizione e rimozione delle strutture costruite anni fa, ora deteriorate, che sono rimaste nell'area. Il via è fissato per la mattina di mercoledì. I mezzi di cantiere intanto si sono già posizionati. Non ci saranno particolari cerimonie e sarà una partenza senza troppi squilli di tromba. Si tratta infatti del terzo tentativo, dopo quello di costruzione del cosiddetto Pala Babele, che risale all'inizio degli anni 90, e poi del successivo Palaturra, le cui rovine ancora per poco rimarranno in Corso Europa. Nelle previsioni la nuova arena sarà da oltre 5.000 posti e non ospiterà soltanto le gare della Palla Canestro Cantù, ma anche eventi di altri sport, come ad esempio tennis, pallavolo, pugilato, hockey e arti marziali. E poi spettacoli, convegni e altre iniziative di alto livello. Si parte dunque. L'auspicio è che ora al finale rispetto ai tentativi del passato possa essere differente e anche, ulteriore speranza, che la squadra di basket torni nella massima categoria, il campionato che le compete. Da qualche stagione, infatti, Cantù veleggia tristemente in Serie A2, lontano dai fasti che l'hanno portata ad essere una delle società più vincenti e famose in Italia e in Europa.